Eleonora Daniele, chi è il marito Giulio Tassoni? Giulio Tassoni è il compagno, poi marito, di Eleonora Daniele, da ormai più di un ventennio. I due sono legati in una bella relazione, che ha fatto sognare il pubblico e i fan della coppia. Nel 2020 hanno anche avuto una figlia, allargando così la loro famiglia. Ma in tanti si sono sempre chiesti chi sia e cosa faccia Giulio. Tra Eleonora Daniele e Giulio Tassoni c'è una bellissima storia d'amore, che va avanti ormai da vent'anni. Questa coppia è molto conosciuta ed amata nel mondo della televisione. Al contempo, però, su Tassoni si sa davvero poco. Lui, infatti, è molto riservato e vuole rimanere lontano dalle telecamere, malgrado il lavoro che svolge la moglie. Proprio per questo motivo, nel tentativo di tutelare la sua privacy, non ha nemmeno dei profili social e non affare mai in televisione. Quindi, di lui e della sua vita si conosce molto poco. Ciò che è certo è che Giulio è un imprenditore romano, che opera nel settore della cosmesi. Inoltre, il marito di Eleonora Daniele è un discendente di Alessandro Tassoni, questione su cui la stessa conduttrice ha ironizzato qualche volta in passato. Alessandro Tassoni era un noto scrittore seicentesco, e le sue origini sono in comune con quelle di Giulio. Ad ogni modo, non si conosce altro di lui, ma più volte è stato raccontato il momento dell'incontro con Eleonora Daniele. I due si sono conosciuti al Piper di Roma, nel corso di una serata. In quel frangente però non hanno approfondito la conoscenza, e la storia d'amore è nata soltanto in seguito. Secondo le indiscrezioni in merito alla sua storia con Eleonora Daniele, sembra che inizialmente la scintilla non sia scattata per Tassoni, dopo la conoscenza al Piper. La conduttrice avrebbe cercato di farsi notare lanciandogli degli sguardi, ma senza risultato. Soltanto successivamente i due si sarebbero contattati nuovamente, e poi sarebbe iniziata la relazione che dura ancora oggi. All'epoca era il 2002 e da quel momento non si sono più lasciati. Prima di sposarsi Eleonora e Giulio, sono andati a convivere per quattro anni, per poi decidere di convolare a nozze nel 2019. La primogenita Carlotta invece è arrivata il 26 maggio 2020, e la sua nascita è stata annunciata sui social dalla Daniele. La conduttrice aveva celebrato questo avvenimento, sostenendo che quella della nascita fosse stata l'emozione più bella della sua vita sia per lei sia per Giulio Tassoni. Eleonora Daniele ha anche raccontato che, nella stesura del libro pubblicato poi nel 2021, suo marito le è stato di grande aiuto, sostenendola mentre scriveva cose per lei dolorose. Oltre ad averla aiutata, ovviamente, con la piccola Carlotta. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già Giulio Tassoni e vi piace questa coppia oppure no? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. A presto! A presto! A presto! A presto!